Innanzitutto, stagione del turismo lauretano, qual è il punto della situazione adesso? Intanto grazie, grazie a tutti, ma sicuramente l'attuale stagione si sta ancora di più arricchendo rispetto all'anno scorso, alla stagione 2022, che comunque ha visto, immaginate, l'arrivo di più di un milione e centomila persone. Chiaramente è stato un bel messaggio l'anno scorso, quest'anno siamo ai dati del 30 giugno, siamo quasi arrivati a un milione di arrivi di persone, a dimostrazione che c'è una grande volontà di ripresa, di ripresa nel mondo del turismo e questo è chiaro per quello che riguarda Loreto, anche la voglia di avere quella ripresa legata alla spiritualità. Ma Loreto dà anche delle risposte di grande arte, di grande cultura, voglio ricordare, anzi è importante ricordare, che abbiamo uno, se non il secondo museo tra i più importanti della regione Marche, insieme a Orbino, il Museo della Delegazione Pontificia, che vede opere importantissime di grandi artisti nazionali e internazionali. E poi abbiamo tutti i nostri bastioni da visitare, le nostre fontane storiche, quindi Loreto sempre più, oltre che essere accogliente e di dare una grande risposta dal punto di vista della spiritualità, si ritrova ad essere una città di arte e di cultura. E questo sicuramente arricchisce e diversifica il panorama turistico che arriva nella città di Loreto. Ecco, hai fatto molto bene a ricordare questo perché Loreto viene sempre identificata chiaramente con il solo turismo religioso, ma invece Loreto è anche molto di più, conosco molto bene le bellezze di Loreto, le possibilità alternative oltre al turismo religioso. Ma tanto per restare in tema di turismo religioso, un futuro, un futuro possibile con l'aeroporto di Ancona che ha un progetto di rilancio con questa sinergia tra i vari comuni che si può creare, un'idea di un collegamento ad esempio con Assisi, che in fondo con il quadrilatero è già in corso o la state perseguendo? Guarda, questa tua domanda mi permette di ampliare il ragionamento, nel senso che ormai tutti sappiamo che nel dicembre 2024 inizierà questo grande giubileo mondiale e naturalmente Loreto nelle Marche sarà come lo è stata nel 2000, quindi 25 anni fa, sede giubilare per il Santuario Mariano e quant'altro. Allora due sono i messaggi che a mio avviso possono partire da Loreto e possono essere utilizzati dal sistema del turismo marchigiano. Il primo, immaginate che nel 2000 a Loreto sono arrivati nell'anno giubilare dai 5 milioni e mezzo ai 6 milioni di arrivi e quindi quest'anno, nel 2024, nell'anno giubilare 24 e 25, molto probabilmente ci avvicineremo a quei numeri. E allora è chiaro che Loreto potrebbe essere, come dire, una grande opportunità per il sistema turistico intanto della nostra vallata, della vallata del Mosone del Potenza, quindi dei comuni che fanno riferimento alla riviera del Conoro, ma non soltanto, abbiamo anche comuni limitrofi come Re Canati, Potenza Picena, cioè con la regione dovremmo confrontarci perché indubbiamente l'asse Roma-Assisi-Loreto sarà un asse veramente frequentatissimo e un asse anche di comunicazioni. E naturalmente il nostro aeroporto, se riusciamo a creare i giusti collegamenti di arrivi dall'aeroporto fino a Loreto, ma non soltanto a Loreto, ma in questo territorio, sicuramente potrebbe essere, diventare uno snodo fondamentale. Allora è chiaro che con la regione, non dico come sindaco di Loreto o come Loreto, no, io credo che dobbiamo interloquire come regione mettendo in sinergie tutte le nostre peculiarità che abbiamo perlomeno in questo territorio, come dico sempre, del Potenza e del Mosone. Perché questo territorio ha Loreto che chiaramente ha numeri importantissimi e non raggiungibili per quello che riguardano gli arrivi, ma anche comuni dove ci sono delle eccellenze dal punto di vista turistico marino, turistico culturale. Lancio un bel messaggio a tutti i miei colleghi che conosco e che stimo perché sono veramente sempre attenti. Chiaramente dobbiamo tutti insieme, dopo l'estate, ma quasi immediatamente tra settembre e ottobre, fare un incontro noi per poi presentarci alla regione, uniti con un progetto che veda valorizzare questo territorio, io uso un termine non bello Giancarlo, sfruttando questa opportunità che Loreto potrebbe mettere a disposizione per questo territorio e per le Marche. Questa è una grande opportunità che si sta presentando nel 2024, questa sinergia e anche quello che tu hai chiamato l'asse Roma-Sisi-Loreto, con i due aeroporti, quello di Roma ma anche quello funzionale di Ancona, considerando le difficoltà che ha l'aeroporto di Perugia, indubbiamente potrebbe essere la chiave per una svolta storica. Grazie a Moreno Pieroni per questo suo intervento e per queste sue prospettive. Grazie Giancarlo e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.